gentili telespettatori buona giornata tutte le bugie della sinistra come area politica sulla riforma costituzionale che dovrebbe vedere realizzata l'elezione diretta del presidente del consiglio l'elezione diretta del premier ma attenzione non chiamatelo premierato soft perché mi viene l'orticaria che cosa sta succedendo ve lo spiego molto chiaramente il governo promette in campagna elettorale di fare il presidenzialismo superpoteri al presidente della repubblica e zero al capo del governo quindi il vero presidente della repubblica il vero premier sarebbe il presidente della repubblica la il governo si accorge di non avere i numeri per fare il presidenzialismo perché renzi e calenda non lo approverebbero mai ci vuole il 66 per cento dei parlamentari il governo non ha questi numeri allora cantone al presidenzialismo e dice a calenda e renzi facciamo il premierato cioè la stessa cosa che volevamo fare col presidente della repubblica lo facciamo col premier cioè il premier ha tutti i poteri che oggi ha il premier più quelli del presidente della repubblica renzi e calenda dicono no il premierato no potremmo essere d'accordo solamente nelle elezioni diretta del capo del governo elezione diretta non è il premierato il premierato è dei tutti i poteri accentrati sul capo del governo e tolti al presidente della repubblica oggi giornali di destra ti parlano del premierato soft è un qualcosa di artefatto per far credere agli elettori di destra che il governo sta mantenendo le promesse non può fare il presidenzialismo ma fa il premierato il premierato non lo può fare perché non ha i numeri e fa solo l'elezione diretta del premier allora i giornali dicono no no si chiama premierato soft è un po è un tentativo per far per far credere all'elettorato di destra che si sta realizzando la promessa elettorale invece non è né premierato né premierato soft ma è semplicemente l'elezione diretta del presidente della repubblica del 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 consiglio che non toglie nessun potere nessun potere al capo dello stato ma dall'altra parte a sinistra fanno il giochino inverso fanno finta di credere che sia davvero il premierato quindi giornali di destra parlano di premierato soft prendendo in giro gli elettori mentre a sinistra fanno finta di credere che davvero è un premierato e allora lo criticano dicendo che toglie poteri al presidente della repubblica quindi a sinistra che sono furbi giocano sul fatto che a destra parlano di premierato che non è vero per dire agli elettori fatto e allora loro dicono a destra raccontano del premierato soft e noi raccontiamo che sto premierato soft è anticostituzionale toglie non ante toglie poteri al presidente della repubblica quindi dice loro raccontano balle le raccontiamo anche noi balla su balla vediamo chi vince che la spara più grossa e così tutti arci anci sindacati opposizione tutti parlano del pericoloso ddl della maggioranza la lotta contro il sovvertimento della carta costituzionale quindi parlano di una sorta di colpo di stato per modificare la costituzione ma vi ricordo che realmente la meloni e il governo proveranno modificare la costituzione seguendo tutto l'iter di leggi che ci sono per fare questo quindi non c'è nessun sovvertimento non c'è nessuna cosa pericolosa c'è semplicemente un governo che cerca tramite le leggi che ci sono di modificare la costituzione con le regole date dai padri costituenti il presidente dell'associazione nazionale partigiani dice il premierato che non è un premierato come vi dicevo distrugge le basi dell'imparcatura istituzionale perché il ruolo del presidente della repubblica si depotenzia strutturalmente davanti a quello di un premier eletto a suffraggio universale in realtà all'ampi come nei sindacati fanno finta di credere che questa sia la proposta quella di un po di tempo fa il premierato in realtà non c'è nessun premierato è solo l'elezione diretta del premier però la sinistra ci gioca con questo visto che la destra gioca a dire che l'elezione diretta è un premierato allora la sinistra gioca a dire ah sì è un premierato allora il premierato distrugge di qua di là capito tutti e due mentono tutti e due mentono e in mezzo c'è l'elettore che vede sto premierato soft non soft e poi ovviamente ci credo perché quanti elettori e quanti italiani sanno esattamente cos'è il premierato il presidenzialismo alla francese all'americana quanti sanno la differenza tra premierato e una semplice elezione diretta del presidente del consiglio molto pochi quindi giocano su questa parola del premierato ma i poteri del colle rimangono assolutamente intatti infatti anche la russa dice non è vero che c'è una grande compressione dovete ricordare che mantiene il potere più importante quello di controffirmare le leggi il presidente della repubblica in fondo dice il potere del colle rimane il primo parere costituzionale sulle leggi niente da fare le opposizioni invece con il fronte del no ideologico vedono pericoli sopprusi dittature regimi beh insomma purtroppo in italia la politica è pagliaccesca buffonesca superficiale sempliciotta basta guardare i capi politici che ci sono in italia se li metti insieme non raggiungono il cervello di una persona che funziona in maniera sufficiente ecco immaginatevi giuseppe conte laschlein salvini italiani bonelli fratoianni immaginatevi tutti questi capi politici li mettete insieme li guardate di te o mamma o mamma questi messi insieme non fanno eh non fanno non fanno proprio pertanto capite che è una disillusione la politica italiana i capi politici davvero hanno lo spessore di un di una formica di un creceto grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video ciao